Che cos'è la SLA? Ora ve lo spiego. La SLA, che sta per sclerosi laterale amiotrofica, è una malattia neurodegenerativa progressiva del moto neurone. Vi spiego meglio. La SLA è una malattia caratterizzata da rigidità muscolare, contrazioni muscolari e graduale debolezza, poiché la linea di comunicazione tra i neuroni del moto e i muscoli purtroppo collassa, causando una riduzione della dimensione dei muscoli nel corso del tempo. E ciò si traduce in difficoltà di movimento, di parola, di deglutizione e infine anche di respirazione. L'aspettativa di vita di chi la contrae è di circa 3-5 anni. Le cause di questa malattia non sono ancora del tutto note, ma la ricerca scientifica sta lavorando ogni giorno per trovare trattamenti farmacologici per migliorare la vita dei pazienti, con l'obiettivo, nel tempo, di trovarne finalmente una cura.